ciao 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 amici di rincas questo l'episodio 153 durante la puntata mi sentirete parlare con una voce notturna un po da dj di radio dj dopo la mezzanotte perché ho dovuto registrare in casa e ho cercato di non svegliare il bambino in questa puntata parleremo dei recenti sconvolgimenti nel mondo dei videogiochi riguardanti in particolare gli annunci di playstation e microsoft per quanto riguarda il multi piattaforma e il pubblicare giochi sulle piattaforme degli altri direi che per questa intro è tutto buon ascolto ciao amici e bentornati a rincas questo è l'episodio 153 parlerò con questa voce sexy perché purtroppo non posso andare nel bunker questa sera e mio figlio si potrebbe svegliare allora eccoci con il signor vito juvara ciao carissimi ciao cari ciao amico massimiliano come stai che non oggi non vuoi stare in centro vuoi stare un po spostato delle difficoltà con la configurazione infatti oggi ti schieri con la tua maglietta dell'italia il paese il paese navalni è morto da solo ci stai indicando per chi votare alle prossime elezioni europee va bene ciao amici allora io spero che mi si senta bene in caso fatecelo sapere nei commenti perché non so se posso parlare con la mia voce sexy tutta la sera oggi di cosa vogliamo parlare in realtà abbiamo ritardato questo episodio per sentire queste incredibili rivelazioni che avrebbe dovuto fare microsoft siamo rimasti un po come tutti sconvolti da quello che è stato rivelato io adesso vorrei chiederti vito juvara tu hai venduto la tua serie ex prima del prima del podcast di microsoft no assolutamente devo dire che a me serve proprio un cazzo con la console cioè se c'è una console che è veramente un soprammobile per me è un po quella perché la uso quando voglio giocare anche a letto i giochi che sto giocando su pc cioè tipo uno still link per me xbox r6 quindi scusa tu giochi tutto su pc per la roba xbox assolutamente sì 99 per cento poi c'è il momento in cui voglio c'è una roba che sto giocando su pc forza voglio giocarlo anche a letto perché a volte voglio giocare a letto ma l'idea di quella console era tipo quella tipo steen deck per me va bene allora prima di passare al largo me gli argomenti forti della serata voglio far dire due parole a massimiliano che ha lanciato una nuova rivista che fa concorrenza a ring e babel massimiliano hai lanciato una nuova rivista solo per i subscriber oppure uno se la può anche comprare se vuole cosa c'è in questa no no tanto diciamo che uno sta a comprare perché io l'ho chiesta a copia gratuita in quanto influenza è stato risposto mori gonfio che è una roba testuali parole peraltro abbiamo preso questo ragazzo che era un giovane adesso è diventato un uomo di 40 anni e invece lui schifato di estrema destra tra l'altro anche pelato questa maglietta dell'italia io due domande io mi sto prestando qua a pubblicizzarla sta cosa che però poteva essere data gratuitamente cioè non mi sembrava una roba no vabbè al di là delle battute allora premesso il mio sogno ma da quando ho 18 anni è sempre stato un giornale quindi impaginato come un giornale normale ma che parlassi di videogiochi mi sono deciso adesso a fare il mensile di insert coin che vabbè è la mia newsletter il mio podcast scegliendo intanto di non mettere nelle recensioni nelle anteprime uno perché non avrei tempo di farle due perché c'è chi come vito le fa molto meglio di me e tre che non giochi a un cazzo diciamolo tra l'altro e comunque c'è una quantità smodata di gente che fa recensioni anteprime e soprattutto mi piaceva l'idea di un giornale un mensile un periodico chiamatelo come preferite che parlasse solo di interviste di approfondimenti di opinioni perché mi sembra che non ci sia oggi in passato come ring come babel si è provato a farlo e quindi sostanzialmente l'insert coin magazine è la forma ultima di insert coin cioè lì ci vanno gli approfondimenti ne ho già in mente per altri per i prossimi mesi e tutto scritti con calma ragionati a modo mio eccetera quindi sostanzialmente tipo davvero la forma secondo me oggi più rappresentativa del mio progetto con la volontà poi bisognerà vedere se sarà anche efficace di trovare la risposta alla domanda ma il modo in cui parliamo oggi i videogiochi con i clickbait le pubblicità è proprio l'unico che funziona perché se non si riesce a trovarne un altro è chiaro che non puoi andare sempre dai siti a dire eh ma fate schifo è l'unico modo in cui quattro persone riescono a parlare a tempo pieno di videogiochi e da questo misto di cose nasce quindi questa rivista che per ora è solo digitale in un futuro mi piacerebbe tanto poterla stampare ma non è ancora al momento e anche a livello logistico è complicato logistico è meno difficile di quanto credi con amazon eh cioè se vuoi farla per i super appassionati è una cazzata e ma sai che non so se amazon ti stampa le riviste cioè ti stampa volendo i libri on demand ti stampa anche le riviste assolutamente c'erano dei ragazzi che abbiamo intervistato da un valone che ne stanno facendo una per esempio ho una serie di domande per massimiliano prima di tutto la domanda numero uno la più la più importante è uno hai considerato di non mettere il testo giustificato perché fa cagare? no perché odio io sono del parere contrario cioè odio quando ogni colonna va per i cazzi suoi capisco che non c'è cioè no so che il giustificato spacca le persone che il giustificato crea crea dei buchi assurdi lo so ma fa cagare massimiliano lo so capito ma per dire the games machine per esempio lo fa e infatti io non condivido quella scelta lì cioè non mi piace che ogni colonna vada un po per i cavoli suoi e quindi domanda numero due come fa la gente ad avere questa rivista andando sul sito di insert coin e sul sito di insert coin abbiamo creato grazie a franco aquini che è un mio caro amico mi ha aiutato a creare tutto una sezione shop dove adesso ovviamente si compra semplicemente il magazine che in questo numero particolare costa 1 euro 99 dal prossimo saranno 2 99 ah pago pure di più dal prossimo poi in futuro la cryptocurrency di insert coin esatto si può pagare anche in bitcoin se volete no scherzo è bella però da leggere c'è un sacco poi voglio darti già la risposta alla tua domanda io c'è un pubblico di questa roba no in italia no te la do già la risposta vediamo puoi trovare una nicchia di appassionati che ti vogliono bene vogliono leccarti allora io ti io dico io dico la verità in realtà secondo me lui fa bene ad includere nell'abbonamento perché se me la regala io sti 50 euro all'anno agli li do più volentieri la qualità come funziona cioè lui paga e pensa che io gli sto regalando delle cose questo è un trucco di marketing meraviglioso però no tu aumenti il valore lui pagava già senza lista e regalata scusa adesso me la regali dice vabbè dai allora lo rinnovo per un altro anno perché quarta domanda scusa non c'è un'altra formula per massimiliano di marco sì c'è il mensile ma mi pare che costa un po meno ma annuale non è veramente il mese e 5 euro al mese con l'annuale risparmi 10 euro pensavo che non toccasse banco note sotto i 50 euro massimiliano no però non puoi e su sub stack non puoi fare le donazioni meno di 5 euro perché dicono se un poveraggio al mese meno di 50 l'anno ti dicono senti se sei un pezzente vai da un'altra infatti no però è una limitazione della piattaforma io so anche perché perché quando tu fai il pagamento il processore del pagamento si prende sempre una percentuale fissa più una percentuale sul totale e quel percentuale talmente alta per esempio le donazioni che fate con rincas brutte merda quando ci donate un euro 40 se li prende paypal 40 centesimi quindi tenete presente che c'è questa cosa qua e donate ricca spezzi di fango non so se avete se ho fatto la terza te la scrivi tutta da solo sta rivista l'ho anche impaginata tutta io stato bellissimo una delle cose più stimolanti che ho fatto negli ultimi due anni ok quinta domanda ogni quanto uscirà ogni mese una volta al mese cazzo e dove lo trovi tutto questo tempo ti sei licenziato dal lavoro sono due settimane che mi sveglio alle 5 50 di mattina quindi sono un po stanchino però il tempo lo troverò ai soldi li spenderai in cocaina per sopravvivere però e beh certo beh l'idea è quella ci dormo meno così poi ho un motivo in più per drogarmi mi disso io questa roba di non dormire posso dare un consiglio e la mia vita non ha funzionato nel lungo periodo ecco noi è diverso la non era proprio una scelta inizialmente è stata scelta era come te cioè lavoro 14 ore arrivo a casa faccio babel poi mi metto a lavorare alle riviste dormo tre ore che cazzo me ne frega e diciamo che ma tanto sai che ai tuoi occhi io ho 22 anni quindi ce la posso ancora fare 22 anni puoi farcela sì però ho capito dal fatto che ti piace la rivista che invece ce n'hai 40 nella mente ma dentro anche 53 esatto va bene dai io l'ho scaricato in realtà prima di guardare una serie netflix questa sera ho detto intanto che aspetto mia moglie mi scarico questa bella rivista poi visto cazzo sono 77 pagine col cazzo che me la leggo adesso adesso però possiamo finire con la marchettata massimiliano di marco visto io ho pubblicato due libri non ti sei mai sbattuto così tanto per promuovere la via la via lì l'editoriale però io però li ho comprati e non me li sono fatti regalare li ho comprati sono anche molto belli e allora benissimo di cosa vogliamo parlare questa sera di due semplici argomenti cioè dove cazzo stanno andando i videogiochi e dove stanno andando microsoft e sony allora partiamo da la notizia che microsoft adesso non mi ricordo neanche come è iniziata sta cosa qua era c'è stato un leak c'è stato microsoft pubblica i giochi poi è diventato microsoft pubblica starfield indiana jones poi è diventato microsoft non pubblica più giochi nel game pass poi è diventato microsoft non pubblicherà mai giochi di attività nel game pass poi è diventato microsoft vi prenderà bastonate sulla testa e si prenderà le vostre mogli e a un certo punto microsoft ha detto forse facciamo chiarizzo forse è il caso però microsoft è sempre stato un publisher no perché tipo flight simulator lo pubblicano loro no age of empire se lo pubblicano loro quindi dove cazzo era la notizia beh la notizia di starfield indiana jones sulla console xbox cioè la console solo xbox è vero che c'è anche per me la non notizia era su la politica del game pass secondo me è stato sempre andato nell'ottica vediamo come stanno le cose ci regoliamo almeno sul dal quando hanno preso vedete hanno detto proprio qui scusate c'ho io che c'ho le allucidazioni o phil spencer ha sempre detto io vorrei vedere il game pass su switch io vorrei vedere il game pass su playstation no non ha mai detto switch playstation ha detto su altre piattaforme quindi più facile intendere i televisori siamo sicuri le altre console io va bene voi parlate perché adesso io la trovo questa quota che non credo che abbia mai citato espressamente le altre console anche poi secondo me lì c'è proprio un problema degli altri che ti dicono ma chi ti sa in cura cioè in grande azizia c'è tra l'altro il fatto che microsoft abbia pubblicato alcuni giochi xbox anche su altre piattaforme c'è stato per esempio con orino che che è arrivato su switch ori ma anche l'esempio grosso minecraft non lo ha spostato dice ma minecraft anche quelli più piccoli mi sa pubblicato molti piatta no sì quindi fondamentalmente si parlava di un leak di una politica che microsoft sta facendo da anni in maniera comunque abbastanza diciamo non non è il core della loro attività però comunque non ha mai detto che sta cosa non la fa adesso io sono sicuro che abbia parlato di switch anni fa dopo cerco il quote quando ho un momento di pausa comunque la grande rivelazione doveva essere che microsoft chiudeva baracca e avrebbe pubblicato tutto su playstation sulla prossima non fare non faranno altre console una dei rumori esatto e per diciamo xbox questa sarebbe stata la fine arriviamo al giorno della loro pubblicazione della loro discussione tra l'altro in un formato secondo me anche abbastanza sbagliato è perché era un po diluita tutta quella informazione lì parlato di un sacco di cose e forse avrebbero dovuto fare un pelo più chiarezza su su quello che effettivamente succederà questi famosi quattro giochi comunque in definitiva phil spencer ha detto che prenderanno quattro giochi di cui due giochi che sono games as a service e due che non sono mai stati pensati come esclusive quindi la si può speculare su quali siano magari poi facciamo anche il totonomi che sembra noi a curia tirati mezzi fuori se ok non l'ho vista e e basta quindi i giochi grossi tra l'altro starfield che pareva uno dei più probabili non arriverà almeno per il momento si parla di giochi che sono usciti da più di un anno quindi si restringe abbastanza il campo di azione e in definitiva le esclusive grosse chiamiamole così per xbox per il momento rimangono su xbox e pc nel frattempo gente online che si strappe capelli gente online che vende la console o almeno dice di vendere la console cosa pensiamo di questa isteria di massa parto io massimiliano si rispondono un po alle cose poi dice anche la tua fondamentalmente loro hanno fatto queste ventino un po accroccato per rispondere ai leak e hanno risposto veramente punto su punto e cioè tutto l'evento è stato organizzato su uno che gli faceva una domanda su farete ancora console sì stiamo lavorando alla prossima console i giochi che devono uscire sono starfield indiana jones no l'unica roba molto criticabile è stata non dire questi quattro titoli gli accordi saranno magari domani come diceva marco lo annunciano uno a nintendo direct ci può stare però a quel punto secondo me vai da nintendo dici guarda lasciamo perdere su super annuncio e li dico perché loro hanno fatto una roba in cui allora sono quattro non ve li dico però vi do l'indizio c'è indovinati però vi dico quelli che non sono è perché lì era la risposta al leak però che era sono indiana jones e starfield e lì secondo me come comunicazione però è stata abbastanza chiara cioè oggi state pensando di portare starfield in là no ci in futuro de vergi fa la domanda lo potrete portarlo e lui ha risposto non dico ma no a niente perché nella nostra idea del game pass sta idea è andata un po dappertutto ci può stare allora nel frattempo massimiliano ha trovato i link c'è un link del 2021 di multiplayer dove per lo meno dalla traduzione di multiplayer phil spencer dice che sono esplicitamente sony e nintendo che non vogliono il game pass nella loro piattaforma quindi sta cosa qua se l'ha detta se l'ha detta e microsoft in realtà non l'aveva mai esclusa sta cosa poi ce ne sono dimenticati tutti adesso la grande novità vabbè non l'ha esclusa c'è l'ha esclusa anche oggi è una roba impossibile perché non la vogliono gli altri non è stato quello il punto cioè l'hanno ribadito non arriviamo dalle altre parti ma non è perché microsoft che non la voleva non è mai stato microsoft ok ma allora perché la gente perché la gente ha iniziato a vendere le console dopo che si è ventilata questa possibilità perché in mezzo a questo marasma di cazzate c'era loro che avevano smesso di fare xbox e se rinunci a starfield indiana jones nella loro testa era abdicare il progetto xbox secondo me anche fossero stati starfield indiana jones o forza horizon che è uno di quelli che secondo me in futuro può fare il passo non vuol dire che rinunciano a questo progetto che invece sulla carta per me era stato sempre in questa direzione sono d'accordo con te cioè di valuteremo caso per caso per esempio io è il descrolla non me lo aspetto mai non multipiattaforma cioè esclusiva poi no che poi tra l'altro nel multipiattaforma tu puoi fare anche sta cosa a rilascio scaglionato cioè gli dai sei mesi di esclusiva xbox un anno di esclusiva xbox esattamente come se non si fa sul pc poi se andiamo a analizzare perché microsoft fa questa cosa secondo me è un segnale di un pass di un game pass che non sta funzionando e che vanno a cercare altre state un segnale di un mercato che si è spostato su chi fa gta 6 molto più di chi fa console anche i guadagni di sony ne parliamo dopo fanno i miardi 50 milioni di console a fine a ciccia non la fanno la fa fortnite la fa gta 5 quindi credo che nella loro testa di tutti sto mercato debba cambiare è inutile che continuano a spendere i soldi investono sulla console sulla promozione ptp imparavamo i soldi li fanno sempre gli altri magari è arrivato il momento con un futuro chissà quanta breve in cui l'hardware sparirà nella nostra testa c'è questo passaggio al cloud no magari non di tutti ma c'è a quel punto devi anche un po reinventarti allora a questo si unisce una notizia che adesso faccio dare massimiliano di cosa ha detto credo che sia il capo finanziario di sony rock to talki esatto come si chiama dillo con me l'arroganza però è c'è veramente sembra il rock to talki sembra sembra il nome di uno di una barzelletta comunque i rock to talki ma bene cosa ha detto massimiliano va beh sostanzialmente come vincenzo ha già un po anticipato il punto è che nell'ultima trimestrale i margini della divisione playstation sono stati del 6 per cento cento cioè molto molto bassi che è il motivo a fronte di investimenti in realtà cioè di introiti molto alti ma i margini poi erano molto bassi sino margini appena del 6 per cento comunque fai 100 e guadagni in realtà spendi 94 ecco vuol dire che stai facendo giochi troppo costosi non stai massimizzando i margini eccetera to talki che mi sembra un tecnico e tutto sommato il direttore finanziario di sony non certo l'ultima scema ha detto qua facciamo quadrare le cose d'ora in poi e fra le cose che ha suggerito ha detto noi abbiamo delle proprietà dei titoli di prime parti molto forti e secondo me conviene che d'ora in poi puntiamo molto di più a pubblicarli contemporaneamente anche su pc perché così aspetta lui dice altre piattaforme che poi sony intenda pc è un discorso però non ha detto pc ha detto vuole intendere anche di più sono d'accordo con te cioè può essere se c'è l'indipicolo andare anche su switch alla fine cioè per me non stanno più escludendo niente loro allora secondo me siamo in un contesto abbastanza caotico nel senso che è evidente che le esclusive uno sono difficili da far uscire due probabilmente non fanno più la vittoria o la morte di una console poi c'è crisi profonda dei triple a perché è evidente che non sono sostenibili e tutti la masnada di licenziamenti che vediamo ultimamente sono dei titoli che avrebbero dovuto guadagnare cinque volte quello che hanno fatto per rifarsi dei costi abbiamo la notizia di alan wake che ha venduto 1.3 milioni di copie non si è ripagato non si è ripagato neanche i costi di marketing poi c'è la crisi dei gas che con l'esclusione di alcuni titoli forti poi adesso è successo anche il diver 2 che magari è una cosa un po fuori dal normale udire ultimamente però comunque in generale i gas fanno fatica a trovare un audience e da questo punto di vista ha senso quello che ha detto microsoft di portare dei gas che hanno saturato la loro audience su xbox e su pc altrove perché si sa che quei titoli lì se non c'è la gente che continua ad entrare a giocare poi muoiono e quindi effettivamente l'esclusività per quei titoli lì è una cagata fondamentalmente quindi situazione incredibilmente complessa per il mercato dei videogiochi tantissimi licenziamenti embracer che compra gli studi poi li chiude perché fondamentalmente hanno ammesso di voler solo massimizzare il profitto l'han proprio detto l'altro giorno quindi non gli interessa neanche far uscire i giochi o produrre della roba di qualità loro vogliono fare più soldi possibile se comprare gli studi puoi venderli o chiuderli è il modo migliore è così che faranno quindi cosa sta succedendo a sto mercato massimiliano tu che sei l'analista del gruppo scusa vito da un'occhiata perché michele sicuramente vorrà entrare poi non sa il link vedi se gli devo mandare il link non posso mandaglielo io perché se lo copio lo vedono tutti vabbè allora sei proprio ho capito sto a fare una regia ho quattro moni dove farlo parlare posso tutto io ok dai faccio io faccio io al di là delle battute tu hai già detto molto e secondo me l'isteria di massa al di là che forse al solito è concentrata su una bolla a cui diamo sempre troppo risalto eccetera 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 questa trasformazione va avanti almeno da 5-6 anni i segnali ci sono da una vita sappiamo che gamepass ha smesso di crescere su console due anni fa l'ha detto spencer microsoft è 10 anni che pubblica anche su pc sono tutte cose che negli anni ci siamo sempre raccontati oggi però ne stiamo vedendo gli effetti e secondo me è stato estremamente interessante lo è stato sicuramente dal mio punto di vista che praticamente lo stesso giorno totò che ha detto quello che abbiamo parlato prima spencer ha detto guardate che l'industria non sta crescendo che cavolo dobbiamo fare noi questo è un tasso su cui ho fatto da un sacco di anni se escludiamo nintendo che anzi ha valorato l'idea di spencer di dire c'è tutto un pubblico da raggiungere e non lo troviamo sto parafrasando non ha detto proprio queste parole il pubblico playstation e xbox non cresce dal 2002 sono vent'anni che vendiamo gli stessi giochi che costano sempre di più alle stesse persone infatti oggi costano 80 euro anziché 60 e a un certo punto però e poi ci sono i dlc e le miglior transazioni sono finiti i portafogli questo punto qua è interessante perché io guardavo l'altro giorno la mia pila di giochi lì da giocare adesso io vabbè ho la mia età ho appena compiuto 41 anni ma allora nella mia pila c'è the last of us che l'ho già giocato the last of us remake che l'ho già giocato assassin's creed mirage che è la nuova versione del gioco che ho giocato 15 anni fa final fantasy 7 remake che è un gioco di 25 anni fa e sono usciti i remake di resident evil 4 cioè secondo me la quantità di gente della nostra età a cui continuano a vendere i giochi di una volta rifatti perché sanno che quella gente lì c'ha i soldi se li ricompra per l'effetto nostalgia eccetera mentre magari fanno più fatica una capcom una konami fa più fatica a vendere a una nuova generazione abbiamo visto il disastro che ha fatto konami con quegli esperimenti su twitch adesso ah ecco un gioco che ho giocato che di cui volevo parlare short come si chiama short message io ho un po paura ho un po paura che moltissimi dei giochi in sviluppo sono targetizzati a noi alla gente della nostra età mentre i soldi sono altrove fondamentalmente se vuoi crescere devi necessariamente andare altrove no non c'è molto della roba cash che non è non hanno inteso come generazione secondo me ma hanno inteso come pubblico che ama quel tipo di prodotto cose ovvero quelli che giochi che fanno sony microsoft e nintendo che è diventata una roba più piccola nel mercato diventata una roba che se vai a guardare i numeri degli altri non ti dico che è rilevante ma è la roba più alto rischio con profitti di margina secondo me accettabile perché anche the last of us 2 per quanto costa vende 20 milioni di copie non 150 di gta 5 ecco tutto quello che gta 5 genera poi negli anni di patch espansioni acquisti c'è chiaramente i giochi questo mercato che noi seguiamo perché esistono gli altri mercati che noi non li guardiamo proprio pensa al mercato mobile dove tutti hanno provato ad entrare ma quelli che dominano sono dopo un'altra categoria di fornitori diciamo di publisher quel mercato esiste va per cazzi suoi quindi loro devono trovare altre vie il fatto che la console più venduta è oggi playstation 2 un segnale deve esserlo però no e non è il game pass il modello che ti fa arrivare a 300 milioni sarebbe una roba in cui gioco con un tasto l'ammazzino di marco è morto o si è bloccato no sto sentendo pensavo che il fan si possa aggiungere qualcosa è che ci hai ucciso la poesia vito no no la verità adesso adesso senza dover fare discorsi su acculturale il pubblico che non valgono un cacchio però è chiaramente un momento di transizione fortissima vuoi per mille motivi elencarli tutti sarebbe assurdo il cambio di generazione adesso si fa sentire perché quelli che adesso giocano su ai videogiochi hanno 12 anni dicono ma perché se io sull'iPhone installo whatsapp e se compro domani il Samsung whatsapp è lì e poi cambio e torno di nuovo all'iPhone invece mi devono rompere i coglioni con queste console dove avere le esclusive io non credo che questa generazione si ponga questi problemi non ne fregava un cazzo lo si gioca e tutto il resto si sta mettendo insieme e anni che lo diciamo ripeto e i nodi stanno venendo al pettine sono il problema è anche che non avendo mai abituato molto il pubblico a ragionare ora ci troviamo in una situazione in cui prova a spiegarlo che o insomniac spider-man 3 lo fa costare meno o salta in aria e quindi per costare meno deve magari non avere 3 miliardi di texture 16 milioni di missioni poi un gioco fantastico quello che vuoi ma i leak di insomniac a dirà delle cose di cui non ci interessa hanno fatto notare i discorsi interni in cui dicono oh ragazzi quanto ci sta costando sto maledetto gioco perché è costato molto più del previsto e spider-man 3 costerà molto più del 2 probabilmente posso dire una cosa forte però ma no non ci pensare neanche io ho visto due documentari quello di tommaso con le chiappe di fuori e grounded 2 quello di the last of us 2 peraltro tommaso con le chiappe di fuori era il titolo ufficiale l'ho visto c'è scritto nudity vietate minori di 18 è proprio per il mio culo che si vede entrambi molto ma in tutti e due secondo me si vede anche un po di deficienza tommaso poi mi spiegherà se in una parte si vede proprio tommaso che è il genio rispetto al vicino distanza cioè quello non genio quello che vive sul pianeta terra perché credo che anche in questa industria oggi tra l'altro tototoki la dà una sbrusciata a bangi importante volevo dirlo anch'io infatti sono andato a visitare lo studio hanno un bel mi sembravano di buon umore però io ho visto che spendono i soldi un po la cazzo di cane questa roba nell'industria secondo me non è da sottovalutare cioè non è cresciuta abbastanza anche da essere in grado di capire stiamo facendo del last of us 2 in grande 2 si vede o a certo punto ricominciamo da capo perché uno l'hanno messo là c'ha una grande idea spendiamo i miliardi per fare in modo che la pioggia dell'acqua prende il sangue che scioglie addosso cioè facciamo il progetto che abbiamo in testa come un prodotto tutto quello che ci viene in più col budget lo facciamo nel tuo documentario c'è gente che fa una festa da miardo e il tizio che dice ma che cazzo abbiamo fatto stiamo col budget limitato e facciamo la super festa allora sul documentario di the last of us 2 che è molto bello glielo consiglio di vedere anche perché fa vedere esatto c'ha dei momenti abbastanza toccanti soprattutto nella parte dove gli è arrivato il feedback negativo prima che il gioco uscisse è veramente pesante c'è la parte dove fanno vedere che hanno invitato nello studio come play tester delle persone con delle varie disabilità cosa importante cosa assolutamente da lodare però c'era un punto dove ci volevano rendere credo l'abbiano anche reso il gioco giocabile da una persona cieca allora adesso io capisco tutto però sti soldi proprio te li sta regalando perché il caso della persona cieca che vuole giocare the last of us 2 tra l'altro il gioco difficile per uno che ci vede però la secondo me è una roba che ti dai un budget se ce la faccio te la vendi te la promuovi anche io non credo che abbiano speso i miliardi per me la roba più grave sono le goccioline d'acqua che fanno scorrere il sangue addosso perché è un dettaglio ma sai che ci ho pensato anch'io quando lo vedevo dicevo ma sti dettagli ma chi li ha mai visti nel gioco quanto tempo ci avrà speso la gente sono bellissimi per carità di dio però non devi uscire non ci devi mettere due anni in più per fare il progetto loro c'è un momento in cui cambiano il responsabile del level design quello diciamo ma io c'ho un'idea la voglio fare più o meno ok ributtiamo ricominciamo da capo ma che cazzo state a dire è tutto molto bello però non è vero che siamo dalle parti dell'arte c'è un prodotto c'è gente che ci mette i soldi tutto il progetto microsoft secondo me è nella direzione di bambini lasciati allo sbando che spendono male i soldi dai sai sai qual è uno dei problemi che sto notando adesso che ho un po più le mani in pasta con lo sviluppo del gioco a cui stiamo lavorando noi che tante idee che tu hai all'inizio funzionano nella tua testa per esempio una cosa che per fortuna il mio capo ha cambiato idea all'inizio voleva fare un gioco principalmente vr perché c'aveva la fissa della via la via del futuro la via fighissima ci ha comprato il quest uno il quest due il playstation come si chiama il via 3 poi un po alla volta rendendosi conto che non sta vendendo un cazzo ha fatto cadere la cosa e adesso stiamo facendo una cosa un po più classica però se avesse continuato su quella strada probabilmente io sarei per strada in questo momento però sono quelle cose che scopri magari che quello verrà esatto delle buone idee e le scopri andando avanti un'altra cosa c'è una adesso non posso parlarne in dettaglio ma c'è una premessa di storia che lui ha fatto che ha senso per la storia che però nel momento in cui tu devi implementare le quest del gioco c'è che cazzo deve fare sto giocatore nel gioco sta creando un sacco di problemi perché non è come le fanno la maggior parte dei giochi c'è c'è un dettaglio che lui ha deciso che rende dare le quest al giocatore meno divertente di quello che secondo me potrebbe essere ha senso a livello di storia quando lo implementi nel gioco per me sta creando dei problemi sta cosa qua te ne rendi conto quando hai sviluppato già metà del gioco dici cazzo però qua se invece avessimo fatto nell'altro modo sarebbe stato meglio i binetti ti chiede dove lavori adesso si chiama una compagnia si chiama corn fox and brothers abbiamo fatto uscire ocean horn monster of uncharted sea il più recente ocean on 2 nights of the lost real ma che si trova poi ha lavorato in housemark su pc sì il documentario di cui parla vito si chiama the name of the game lo trovate su netflix è del periodo in cui lavoravo da housemark a mezzo macchina senti ma questa cosa di voglio fare un'idea o il libro di shy secondo me sono molto indicativi su quanto fare migliore scusa per chi per chiudere quella cosa lì tante volte ti rendi conto che un'idea non funziona dopo che ci hai speso sopra mesi dici cazzo però qua non dobbiamo fare un'altra roba e questo ha senso infatti scusa se ti interrompo vito perché volevo agganciarmi a quello che ho detto prima su bungee io inizio ad avere la sensazione a maggior ragione dopo questa trimestrale in cui totocchi ha parlato così che il prossimo amministratore delegato di sie sarà un bel tecnico cioè uno che dice i soli sono questi fateveli bastare tipo il mario draghi del ryan 3.0 cioè se ryan ci sembra uno molto freddo io sto avendo la sensazione ma è basata sulla mia sensazione che può sbagliare che sia quella la strada beh lui quando parla la prima volta massimiliano dice ho trovato il problema è stato chiaramente non sanno come fare marzo per risolvere il problema cioè chiaramente una sony hanno detto abbiamo un problema mettiamo uno che ci spiega qual è la sua soluzione è togliere gli snack a quelli di bungee perché se tu leggi la sua risposta sul domanda risposta agli investitori secondo me vuole dire che sta gente a bungee c'ha troppi privilegi e adesso gli inculo un po io io l'ho letta così secondo me lì con la bungee oggi è severissimo ma la vuole secondo me li vuole togliere a tutti cioè vuole stringere la corda e dare delle responsabilità anche a chi sviluppa non capendo probabilmente un cazzo di come si fa nei videogiochi quindi sbagliando all'eccesso opposto però ci sono delle cose su cui puoi lavorare secondo me come dici tu quella roba di fare vr poi il vr non va ci sta esattamente come c'è stato in sony pensare di fare gas poi oggi arrivi il mercato è super saturo non ce la fai più ci ti pensi questi avranno buttato diversi anni per diversi studi a fare il gas che non usciranno questa cosa succede a tutti capire che devi andare su un progetto centrale poi se mai aggiungi se è tempo è una roba che invece va imparata come lezione altrimenti se vuoi sempre fare di più di più di più di più i soldi li butti guarda la cosa che io trovo più frustrante del del lavoro che facciamo adesso è che per come lavoriamo noi facciamo 100 milioni di idee e poi tu devi sfoltire finché te ne rimangono 13 quindi tu hai speso i soldi e il tempo e l'energia per svilupparne 100 milioni e poi alla fine ha il tempo per farne bene 13 a me fa cagare lavorare così perché vuol dire che il 90 per cento di quello su cui lavoro non vedrà mai la luce che è una roba proprio frustrante dice che dio buono ci ho perso un anno su sta roba e non riusciamo a mettere neanche una parola nel gioco io a guardare quel documentario tommaso sono impazzito di più al tizio che ti dice vabbè non mettiamo il nome partiamo e poi cambiamo il nome c'è le robe che dovrebbero essere acquisite da un'industria che non c'ha più cinque anni come si lavora come si spendono i soldi c'è quello e tu la fai la figura secondo me che casa che non me la ricordo sta il nome del gioco dici sì quello dice partiamo con la campagna senza mettere il nome tanto tutta la pubblicità la facciamo dopo e tu gli dici ma che cazzo stai dicendo eh però l'hanno fatti quelli andata bene tu gli dici eh ma quelli se tornassero indietro vorrebbero aver non buttato i soldi con una campagna col nome sbagliato e poi farla quella col nome giusto perché sono soldi buttati mettetevi seduti e scegliete sto cazzo di titolo così facciamo il lavoro ma l'idea di quello è uno che stava scusa dici dici sul sul cosa di housemark non su quello di della stavasse no no di housemark su te io mi ricordo quella quell'episodio della stanza con te che gli dici ma che cazzo dici e sembravi l'unico che stava sul pianeta terra cioè già tanto poi cambiamo ma che cazzo stai dicendo una campagna marketing sul nome sbagliato ma sei serio il nome è stato veramente difficile lì dottor è stato proprio una cosa centrale uno dei cortocircuiti che ovviamente sempre sotto tocchi non è che è arrivata la mario draghi whatever it takes per carità del signore ma se dici ci impostiamo un obiettivo di 25 milioni di playstation 5 durante l'anno obiettivo ambiziosissimo forse neanche livelli playstation 4 raggiunti del genere ti accorgi che sta andando meno meglio del previsto meno bene del previsto cosa fai abbassi il costo per mezzo anno playstation 5 è stata venduta a 100 euro in meno e totò che giustamente ha detto ma noi ste console già le vendiamo in perdita e questa cosa è essenziale nel mercato console perché devi far crescere la base poi arrivano i videogiochi se ci riduciamo ancora immagini abbassando ancora di più infatti ha detto gli sconti li faremo un attimo più ridotti cioè è un insieme di cortocircuiti dietro l'altro che poi ti ritrovi appunto a fare 100 miliardi ma i ricavi sono 5 sì sì ma anche a parte che loro adesso avranno buttato veramente una quantità di soldi senza senso per sticas e poi bisogna vedere se loro parlano di profitti sugli studi e giochi o in generale di sony perché credo che invece se vai a considerare l'indotto dei 50 milioni di console non so se c'è dentro questa roma cioè esattamente lui di cosa parla no cioè lui parlava della divisione playstation quindi non considera i soldi che fai con 50 milioni di console perché ti danno il 30 per cento della transazione di fortnite e però il punto è che se l'hardware già non ci guadagna una pippa e lo devi scontare per raggiungere gli obiettivi che dio solo sa perché ti sei imposto e cacchio già è un problema fare margines anzi non lo sconta ci sta secondo me loro già hanno dimostrato di cambiare spostando completamente la loro politica da facciamo le esclusive a facciamo i giochi ps4 ps5 cioè anche quello va in quella direzione sui gas invece la cosa di hell divers mi sta facendo ragionare su una roba cosa è arrivato michele chi sta attenzione un ingegnere con questa roba è un ingegnere salvato michele lo accettiamo meglio di questa roba inguardabile ma tra l'altro lei fanno dei lavori incredibili ormai perché a te riesce sta roba del merda quel green screen mai se ne vedo è una grande opzione solo sul mio ciao michele scusa vai vai scusate l'interruzione riparte ho sentito gas ho detto oddio no dicevo che la storia di hell divers 2 che sta andando molto bene è uscito da poco super session 5 pc mi sta facendo ragionare su una cosa che il problema non sono i tanti gas il problema sono i giochi brutti perché se arriva il divers 2 e piace alla gente che è un live service non gli frega niente a nessuno c'è evidentemente bible babino's fall semplicemente faceva cagare rispetto a ciò che la gente voleva poi è vero guarda io devo dire la verità che su hell divers 2 non ci avrei scommesso 5 euro perché il primo simpatico ok ma che il 2 abbia tutto sto successo quando graficamente non è un gran che è un gioco anche visivamente abbastanza anonimo secondo me cioè io non riesco a capire perché sta avendo tutto sto successo sarà sicuramente un bel gioco succede sempre qualcosa perché ti fa andare da tutte le parti durante io non ci vedo neanche adesso è una di quelle robe di isteria collettiva tipo pal world che capitano ma ma infatti io volevo dire cioè ci sono stati sti due episodi pal world e hell divers 2 però hell divers 2 intanto possiamo dire che noi abbiamo l'ospite di lusso quando si deciderà venire ma stasera adesso mi vada ad ubriacare perché perché pal world è precipitato verticalmente ricordiamolo che ferruccio ha lavorato a hell divers 2 io ho detto vieni che ci vada le anche nel 2 e non ha preso fuoco no stasera devo andare a ubriacarmi però pal world ha venduto 8 milioni di cose secondo me gliene frega un cazzo che ha precipitato però sono un po' isterie dettate anche dalle mode dalla chiacchiera cioè pal world si innesca per una serie di ragioni io credo che anche hell divers 2 sia in una fase di grande entusiasmo che andrà adesso poi non voglio dire una cagata ma hell divers 2 non costa anche meno no no dico non è venduto anche non a prezzo pieno 49 mi pare e però anche sta roba che pal world è 30 euro questo 40 40 è il dalle 2 secondo me su questi giochi qua ci sta è scale in bols che prova a 60 che è pazzo il testo scale in bols credo che non si sia innescato neanche se lo compravi ubisoft plus non partiva nell'abbonamento su size squad altro suicidio di massa che è molto facile però io ho scritto una roba su autogast in questi giorni in cui dico è sempre facile giudicare su size squad hanno sbagliato tutto però il mercato i soldi veri stanno in quello ci sta che ci abbiano provato a quanto pare neanche troppo dettati dall'alto da quello che si racconta fare una roba diversa gli è venuta una merda e ci sta che arrivi nel momento sbagliato Vito io sto ricordo a parte il fatto che poi tutta la storia walk eccetera eccetera che non me ne frega proprio niente anzi sono contro sta roba qua ok però avevano un buon combattimento sto delirando tipo trump ai cominci Kill the Justice League ah success squad success squad kill the Justice League ma anche il discorso di di buttare via una cioè un come si chiama un combat system ultra rodato e aggiungi qualcosina qua hanno cambiato tanto 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 prezzo alto 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 no aspetta posso dire una roba perché quando io il gas eccetera cioè deciditi o fa il gas ma parti un pochino più basso a 29 35 scusa posso dire una roba quando ero a housemark in realtà era la seconda volta dopo aver lasciato dopo l'ex macchina sono tornato per dargli una mano su un titolo che non è uscito che si chiamava storm divers che è stato solo in beta dopo di che hanno cancellato il progetto non so nemmeno benissimo chi e quando l'abbia cancellato perché a quel punto non lavoravo già più uno dei problemi era un battle royale perché vi ricordate che a un certo punto erano ok uno dei problemi grossi che avevano è che avevano provato a fare un gioco che andava per la maggiore in quel periodo quando le persone all'interno dello studio uno erano specializzate nel fare altro due non erano particolarmente appassionate di battle royale cioè se ti pagano stipendio puoi anche diventarlo però secondo me uno studio come lo studio che ha fatto suicide squad potrebbe aver avuto anche della resistenza interna rispetto al tipo di progetto perché poi non è che tutti decidono no facciamo sto progetto qua cioè a volte te lo calano dall'alto tu lo devi fare e magari a te fa cagare però nessuno nasce con le skill del battle royale ci sta che in un mercato che va in quella direzione ci trovi qual è stato il problema dei mille battle royale finiti perché mica solo quello eh ti ricordate quello dei robot fantastico che doveva uscire che esce pubg si prende un po' di spazio arriva fortnite se ne ciuccia una parte grossa e diventa clamoroso dopo di che esce Apex e tutti a correrci dietro poi esce Apex tutta roba che continua a essere in forma tutto sommato Apex e PUBG stanno ancora in piedi non sono morti Apex diventa quello tecnico dopo arriva Warzone che è il fortnite con un nome della madonna ma dove cazzo ti inserisci là dentro? c'è il giocatore di battle royale che già c'ha Apex legend gratis Warzone gratis Fortnite gratis e PUBG mi pare che sia diventato gratis alla fine va in là e dice vabbè pagatemi il mio battle royale tra intero ma quando cazzo con tutti gli streamer già piazzati io c'ho uno che seguo su Twitch che gioca a Fortnite da 23 anni la gente guarda quello e infissa ma quando cazzo lo sposti su un altro gioco cioè dovresti fare un altro battle royale della madonna già finito perché non è che puoi arrivare a indevinire perché oggi ne stanno quattro finiti clamorosi non è che puoi arrivare a indevinire spendendo sul marketing i miliardi andando da Vito Juvar a differenza di come ha fatto Massimiliano Di Marco a pagare per fargli parlare delle cose perché sai se vuoi puoi comprare la rivista di Massimiliano Di Marco Michele te lo dico ah minca corre in edicola no no ma davvero e quindi non c'è più spazio è chiaro che però quando pensi al success code di dire fai quella cosa vai in quella direzione fargli fare come si chiama God of Nights oggi magari arrivavano comunque stanchi anche su quello io ho giocato mille Yakuza e dico no voglio non voglio più l'RPG voglio il combattimento ne ho giocato uno a Natale c'avevo le palle piene anche del combattimento alla fine se questo se non sbaglio è un action RPG no? come stile quello di Kill the Justice League ma è comunque ma io ho fatto la beta due ore volevo impiccarmi cioè proprio e avevo aspettative a zero per me delirante tutta la parte di traversing con quattro personaggi nelle due ore di tutorial facevi quattro tutorial tutti e quattro una palla al cazzo incredibile cioè è la roba che secondo me tiene in piedi Spider-Man che fondamentalmente è un giochino con poche robe combattimento carino ma il traversing funzionava da dio anche sul primo che era la merda del gioco e la gente si eccita questo c'ha quattro traversing insopportabili perché vai sempre a terra arrivi là spari ondata di nemici ok c'ha storia bella ma io non la voglio vedere a storia non c'ho lo che odio perfetto è già demolito così beh se è demolito è morto va bene quindi cosa abbiamo risolto? cosa vediamo nel futuro di Microsoft e Playstation? Massimiliano io ho l'impressione anche qui come quella del prossimo amministratore delegato di Playstation può essere una mia sensazione sbagliata che arriveremo a un punto in cui il blockbust cioè un po' come il cinema ogni tanto esce Jurassic Park ogni tanto beh Michele credo sia morto ogni tanto esce Avatar 2 ma a un certo punto qualcosa sarà fortemente ridimensionato cioè vedremo GTA 8 che costa 7 miliardi ma arrivo a credere che tra 15 anni tutta sta roba della guerra delle console per forza di cose cioè legacy le grandi società pure non avranno altra scelta sarà mezza morta mi sembra che la strada sia quella poche esclusive grandissime e tanto in tutto questo l'unica ad aver avuto ragione sempre è stata Nintendo con pochissimi investimenti sull'online non capire un cazzo di internet mai sconti e anche per i giochi di 10 anni fa al massimo il 30% degli sconti secondo me la roba degli sconti è quella che devono assolutamente inseguire cioè l'idea che si debba mantenere il valore di un prodotto anche non facendo però un seguito l'anno che è una roba che per esempio Ubisoft non ha mai capito cioè oggi se parli del primo Assassin's Creed nella gente la percezione della gente è una merda il primo Assassin's Creed quando arriva è una roba sul mercato c'è avrà un bila difetti ma era una roba faceva delle cose che hanno copiato tutti se fai 7 episodi l'anno la gente rimane con questa sensazione di incompiuto sì sì e l'annuncio clamoroso l'annuncio clamoroso che fai dopo 15 anni della serie è quest'anno non ne facciamo uno all'anno e la gente dice ah cazzo allora il prossimo sarà una bomba prima di dare dei geni a Nintendo ricordiamoci la nostra percezione pre-switch cioè sembrava la console prezzata male che non c'ha Netflix ma che è sta merda sul sistema operativo e vediamo questo schermo del cazzo perché non è così scontato che gli riesca sto passaggio in dolore io su Switch avevo delle buone a me pare di ricordare delle buone vibes e facendo revisionismo storico e il Wii U che è quella problematica io ricordo Ferruccio buone vibes disse proprio non è un problema però sui prezzi io mi ricordo tutti molto critici il prezzo dopo una console come faranno che era un prezzo premium perché era una console tecnicamente inferiore a prezzo più alto delle altre eravamo tutti quando cazzo vanno sistema operativo online rimane quello codice amico Netflix ci sarà no niente app dicevamo tutti sembra una console del medioevo ha detto anche il fatto che era in mezza generazione questi ricordi perché non era diciamo sincronizzata con le altre non si capiva se era meglio di quelle di prima peggio di quelle che stavano arrivando e il mio dubbio era come avrebbe fatto a resistere in un mondo dove c'erano una valanga di sconti continuava in perterrita nintendo e continuo ancora con prezzo pieno prezzo pieno frega un cazzo eccetera sulla parte online non sono non ero così preso male perché non non l'uso in maniera così aggressiva sai qual è il genio di nintendo perché sono ho acceduto al al nintendo e shop oggi che ho rimesso su zelda ho detto l'ho ci avevo giocato venti ore ho detto che è ora lo devo riprendere non posso mollare sta zelda perché sono una persona migliore di così l'ho rimesso su ho detto vado a vedere cosa c'è nello shop la sezione sconti oggi aveva 3900 titoli in sconto buttati nel mucchio come fa nintendo non c'è nessun modo di categorizzarli credo che mettano in alto quelli che vengono su switch è uscito il gioco mobile cioè in quella roba c'è una pacottiglia di roba 0 3900 titoli da guardare che già dopo che hai scorso tre linee ti sei rotto i coglioni perché tra l'altro è anche lentissimo cioè il genio è che tu su switch se vuoi giocare a pochissimo puoi giocare comprando la roba degli altri perché la roba degli altri è scontata anche del 90% la roba di nintendo vedevo prima diciamo kirby che è uscito un anno e mezzo fa due anni fa a 30% di sconto cioè il genio è la roba nintendo non viene mai scontata ma loro secondo me non è un genio oggi su switch è stato un genio su vyu loro manco su vyu hanno fatto la politica beh provate a prendere a 10 euro perché oppure la console mi sembra mai tagliato il prezzo no questo non me lo ricordo beh sul taglio di prezzo in passato l'hanno fatto e gamecube io lo prendo sulla console lo facevano lo facevano i centri commerciali il taglio credo no anche nintendo nintendo se compravi gameboy advance ti dava 50 euro di sconto sul gamecube che stava a 99 euro console tecnicamente top di quel mercato quindi insomma lì ci hanno provato non funziona sui giochi no sui giochi vyu non ha venduto però il nostro prodotto vale comunque totta non tacchi al cazzo tanto alla fine non paga hanno ragione se posso posso spezzare una lancia sulla schiena a massimiliano di marco ha scritto correttamente una cosa che tanti provano a farci dimenticare come in tante altre occasioni della vita eccetera che sembra banale ma non è che è quella di comunque qualunque cosa succeda tragica Xbox chiude tipo settimana scorsa invece di dire facciamo 4 multipiat e vediamo come vanno chiude non è che si ferma il mondo dei videogiochi ci sarà sempre qualcun altro eccetera che oggi ci siamo fissati su c'è il mondo Steam con PC GOG eccetera c'è il mondo mobile e ci sono ste tre console per chi è ancora ancorato quel mondo lì probabilmente fra un po' cambia non è più così chiude Sony Sony ti dice non è più profittevole faccio quello Microsoft ti dice spingo su xCloud e console piano piano la declino perché non mi interessa più vado sul cloud eccetera forse non è destinato a durare un'altra generazione e mezzo però mi preoccupa i nomi che ci ricordiamo gli altri mercati che sono quelli che vanno forti a me fanno cagare cioè a me piace questo universo dei videogiochi e a livello di costi di possibilità secondo me siamo in questo momento anche nel miglior universo possibile vedi il 2023 vedi Game Pass vedi i giochi scontati vedi livello utente ti faccio questa domanda se da domani viene lanciata la Jihad butleriana di Dune che non so se sai che cos'è cioè nessuno può più può più sviluppare niente basta le macchine le macchine ok con tutti i videogiochi che sono stati sviluppati da cioè fino ad oggi tornando indietro di 50 anni tu non avresti comunque da giocare ma certo perché potrei giocare la roba che ho giocato una volta io adesso ogni tanto faccio Vito Red Roulette metto gli arcade vecchi che io non ho mai bazzicato ne scopro 8000 sì però a me nel mondo dei videogiochi piace anche il sogno cyberpunk cioè piace anche la roba tecnologicamente che porta avanti piace sognare The Last of Us 2 che scrivono le scene come Dio comanda cioè per me fa parte tutto dell'industria poi è chiaro che io non muoio ma io banalmente oggi i videogiochi sono al terzo posto per me libri e lego sono comunque avanti se mi fai scegliere quindi non è che muoio se mi togli i videogiochi la piramide di Vito è libri lego videogiochi più lego in questo momento è lego proprio H24 l'italiano medio è la stessa piramide è fatta di lego calcio è sceso sotto i videogiochi cioè io l'altro giorno sono andato all'alto al cinema e c'era Lazio e ho detto ma sti cazzi quindi cambiamo c'è una persona orribile incredibile Vito è un po' incredibile nella mia vita ma mi sono proprio rotti i coglioni e poi voglio fare mille cose e ci sta anche questi cazzi cioè sopravvivo senza problemi però mi dispiace cioè come dispiace io penso che a me dispiace ma ci siamo fissati con quest'idea che c'è questo che è esattamente come mi sono sentito quando è morto Siga come produttore di hardware dopo cos'era il Dreamcast l'ultima giusto? sì e per cui sapevi che c'erano quelle console eccetera cioè c'era l'amico con il Nintendo l'amico con Siga si andava un po' di qua un po' di là non potevi giocare gli stessi giochi perché erano alcuni di qua alcuni di là alcuni erano porta alcuni facevano cagare su alcune piattaforme e poi ci siamo evoluti e poi ci siamo evoluti o è cambiato ecco con la morte del Dreamcast ovviamente Siga è cambiata molto Sonic ci giochi ancora fa sempre cagare come ha sempre fatto cagare Marchesin si sta dando fuoco si sta uccidendo con la benzina questa è benzina però esci da un pupazzetto di Sonic hai perso la visione del mondo dei videogiochi che era anche recitati la transizione a quando le sale giochi hanno iniziato a non esistere cioè secondo me stiamo parlando di quella roba lì secondo me se torniamo se adesso invitassimo uno che giocava negli anni 90 se la giochi probabilmente ricorderebbe che quel momento l'ha vissuto malissimo dicendo cazzo ma a me non frega niente delle console io voglio Virtua mi hanno tolto questa roba qua voglio Virtua Fighter voglio giocare Virtua Tennis lì affanculo sta Playstation che adesso arriva e siamo qua a giocare un 2023 poi ripeto troppi giochi secondo me non è mai sempre bellissimo però beh vabbè ma scusa ma Fortnite non è un altro momento arcade per un'altra generazione cioè per me era giocare Tekken in sala giochi per uno di dieci anni più giovane è il problema che io non sono dieci anni più giovane per me è la morte non sto dicendo che i videogiochi sono cambiati i videogiochi sono già in un'altra direzione ma tu fra poco vai in pensione ma cioè devi pensare a in pensione ci vado quel cazzo però già il mercato mobile guardate il mercato mobile c'è qualcuno di noi che riesce a mettere mani a quell'idea di videogioco sopportandola tu forse sì visto che fai anche un gioco single player per mobile però per me appena metto mano anche a giochi che mi piacciono cioè prendo Cookie Mama versione Apple Arcade e versione non Apple Arcade io quella non Apple Arcade mi impicco giuro se i videogiochi diventano quella roba là io mi faccio esplodere grazie a Dio c'è la versione Apple Arcade che è una roba che mi piace cioè lì c'è veramente la ricetta fatta in quattro pezzi dopo la prima e aspetta tre secondi clicca ma dove siete scemi cioè non ce la faccio vado a leggere e cattrust comincio a migliorare come persone a leggere cioè mi avete obbligato a leggere questo hanno fatto i giochi mobile guardate come avete ridotto quest'uomo va bene cosa dite sono le dieci e mezza almeno da me le nove e mezza in Italia andiamo andiamo coi giochi si devo mettere la sigla ogni momento questa cosa tanto non abbiamo risolto niente come al solito vabbè tu volevi veramente risolvere i problemi dell'industria oggi scusami già a vita hanno rubato il gioco di tavolo di lego a Asmund eh mortacci de pippo veramente allora si chiama come si chiama sta roba now playing nerd cop nerd cop now playing quando apro la mano potete parlare è chiaro perché Tommaso è un attimo in fase meditativa stavo facendo la sua preghierina un secondo mi hanno mi hanno mandato un messaggio che stavo cercando di interpretare ma ci sono troppe schwa e quindi ho avuto delle avevi uno sguardo smarrito cioè stavi guardando in un abisso profondissimo e l'abisso guardava te esatto ci sono troppe schwa in questo messaggio non so leggerlo ma dovute alla lingua finlandese dovute all'italiano che non mi funziona più la possibilità di vedere i messaggi della chat qua che posso evidenziare hai perso la connessione vita devi solo riattaccare facebook che cazzo perché l'ho perso è logato in alto mistero della tecnologia però dovresti googlarlo prima di andare online penso allora dai di che cosa giochiamo allora vi dico due cose io allora sono riuscito a giocare un po' di roba ultimamente tutte cose che dovevo finire o che avevo lì impiantate allora finalmente sono riuscito a finire questo final fantasy 7 remake che avevo iniziato su ps4 poi ho lasciato fermo per mesi e mesi sono rimasto fermo credo al capitolo 13 14 per mesi poi adesso me lo sono riportato perché allora la ps4 in italia me lo sono riportato in finlandia ho fatto l'upgrade alla versione ps5 ho detto dai lo finisco allora per me sto gioco fa cagare posso dirlo questo gioco fa cagare io ho dedicato io ho dedicato 40 ore della mia vita e l'ho trovato infantile nella scrittura incomprensibile in quello che vuole dire perché il finale è completamente a caso e devo guardarmi un video di spiegone per capire che cazzo sta succedendo nel finale su questo sono più d'accordo c'è un videogioco medio giapponese tutto sommato dai allora giocare è figo dai che cazzo c'ha che non va allora il combattimento mi piace ma c'ha un grosso difetto e cioè che ci sono un paio di mosse che non servono a niente per esempio la parata l'ho fatto quasi tutto il gioco senza mai parare c'è solo a un certo punto puoi metterti un materia che ti fa la cioè se tipo blocchi fa il counter attack e quella è abbastanza figo ma quasi tutto il gioco l'ho fatto senza parare però a normal la schivata usata poco tra l'altro nel capitolo 18 ho abbassato a easy perché non mi stavano esplodendo le paese ok stavo appena dicendo vedi come è cambiato il mercato Tommaso si lamenta che a normal è troppo facile invece col cazzo cioè no no il capitolo 18 ma c'è un'impennata lì nel finale che è veramente impegnativo e lì non so se l'aspettativa fosse che tu ti fai tutte le side quest per arrivare al finale ma io dopo 40 ore non ne potevo più insomma 40 ore di Final Fantasy sì 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 dura tanto tra l'altro gli ultimi due capitoli da soli durano 10 ore sì che sono anche roba bruttina però il resto secondo me le secondarie si potevano fare non era mai una roba e l'allungamento della broda lì veramente pesante le prime 10 ore secondo me proprio bellissime secondo me non hanno migliorato quasi niente con la roba nuova che hanno aggiunto l'unica cosa che mi è piaciuta un po' è la spiegazione del perché alcune cose vanno diversamente quella roba lì non è una brutta idea senti voglio solo dirti una cosa non giocare il 16 però no 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 il 16 ce l'ho già fatto 17 ore e che ne pensi in confronto a questo perché secondo me non lo vede manco col binocolo cioè sia di scrittura che è peggio sia di gameplay che è tante volte peggio allora del 16 la mia impressione è che non hanno cioè vuole essere un action game però con l'avanzamento dell'RPG che non ti permette di avere un range sufficiente di mosse per renderlo un buon gioco di combattimento cioè io mi ritrovavo sempre a fare le stesse cose adesso lo finirò al 16 perché comunque gli avevo dato non so sono oltre la metà con il 16 dura un botto non dura poco sì non dura una trentina di ore se non schippi i filmati no io ho schippato i filmati sono con le tue ore ma le ultime cinque ore non ci hanno fatto più volevo morire ok guarda a me non stava dispiacendo ma sicuramente hanno un po' sbagliato il tiro lì non so l'ho trovato un po' meno ridibile perché allora il problema di Final Fantasy 7 remake è che hanno fatto una parodia praticamente cioè spesso le cose che succedono sono io veramente le ho trovate bambinesche tipo Ojo che quando intrappola uno dei personaggi del gioco si struscia sul sul vetro casuale cioè io veramente non ce la facevo oppure il come si chiama il boss quello che si fa portare tutte le ragazze quello secondo me invece è una figata perché poi mi prende anche l'originale secondo me quella parte là completamente che si prende un po' in giro splendida allora sono passati troppi anni forse sono cambiato io ma io l'ho trovato veramente intollerabile alla mia età non ce la faccio più adesso mi dicono che il demo del 2 Bellis del Robert stupenda io devo fare una grande pausa qua prima di rimetterci le mani quindi niente non riesco a capire tutto l'entusiasmo per sto titolo perché secondo me secondo me aveva un bel combat non ho avuto questi problemi di drama secondo te senza aspettarmi niente secondo me non ha manco l'originale era sta drama fantastica io l'ho giocato più tardi però ho proprio detto vabbè che palle stessa roba sull'ambiente avete rotto i coglioni sempre la stessa cosa vabbè però all'epoca in cui è stato fatto secondo me aveva un po' più ci sta però secondo me sì questa era un po' un'operazione diversa capisco il non amare la trama problema col tono o meno cioè mi sembra una roba se guardi Yakuza impazzisci cioè Yakuza c'ha delle robe terribili ma c'ha anche delle altre cose vabbè questa purtroppo è la mia esperienza con il remake volevo finirlo perché a sto punto ho detto voglio vedere come va a finire tra l'altro alla fine ci sono anche una vaga citazione a Suraswarat che è uno dei giochi più belli della storia dei videogiochi però sì per me è polliceverso decisamente Massimiliano c'ha delle cose salvabili ma nel complesso no soprattutto ho giocato al nuovo Prince of Persia non l'ho ancora finito non sarò hai visto che una volta tanto sono quasi sintonizzato addirittura grazie e allora mi è piaciuto in generale ovviamente è molto diverso rispetto agli altri visto che è un gioco 2D dopo anni in cui la serie è stata tridimensionale lo trovo peraltro un ottimo punto d'ingresso dato che ne parlavo giusto nel gruppo di Insert con l'altro giorno cioè mentre lo giocavo più giocavo Prince of Persia The Lost Crown più avevo voglia di giocarmi un super metroid cioè nel senso secondo me ti fa venire a voglia di giocare altri titoli simili uno perché è un punto di regresso semplice perché è molto accessibile ottima la cosa delle schermate nella mappa mi ha salvato un sacco di volte da fare dei giri a vuoto anche se i nemici comuni ti bastonano come dei disperati cioè ti legnano più dei boss quella è la roba che mi ha annoiato molto tanto da farmelo mollare il fatto che fossero complicati i nemici sì non era molto fluido nel cammino era impegnativo che so che piace a molti quindi quando sono arrivato al primo boss impegnativo su sette ore forse era il terzo boss ho detto ma che cazzo non lo fa fare io non c'ho voglia mi hai rotti i coglioni l'unica cosa forse ecco non è sempre bilanciato il ritmo del gioco cioè tra non ci sono né troppi combattimenti quindi non è tutto azione non c'è nemmeno così tante esplorazioni o perlomeno un'esplorazione così gratificante passerei tutto il tempo a quante ore sei tu? io avrò fatto diciassette ore diciottore quindi vicino al finale credo che no ma non è neanche a metà no durare sono verso la fine venticinque ore comunque secondo me è molto molto carino molto funzionale io ho giocato attraverso Ubisoft Plus quindi l'ho giocato pagandolo un pochino meno però trovo molto funzionale è bellino guarda se ti piace questo provati la demo di quello africano di Electronic Arts perché secondo me è più o meno un Red Skim sai che mi sfugge in questo momento quale intende? Kau qualcosa Zau molto molto simile anche onesto io non lo giocano mai ecco una cosa che non mi è piaciuta di Lost Crown è si legge troppo cioè a me da un po' da un fastidio ai videogiochi che la lore te la raccontano facendoti leggere un botto di roba anche perché uno non è interessante sinceramente vuole raccontarti la lore della divinità a cui andavano per incoronare quello che succedeva tutto sommato veramente un po' inutile ci sono i cattivi fammi saltare fammi fare le mie evoluzioni si esatto però funziona ecco solo se vi interessa aspettatevi di morire spesso Michele? io ho giocato la demo di Prince of Persia l'ho trovato carino quindi penso che lo piglierò però ho talmente tanta roba che devo avere un po' di disciplina io ho giocato usa gli adesivi Michele che funzionano bene sicuramente guarda la strategia giusta per me Super Mario Wonder che come dicevo sul sul gruppo Telegram è una cazzo di caramella nel senso che è quella botta di zucchero violenta ogni livello ho fatto tipo due o tre giorni dove al pomeriggio mi mettevo lì tipo sabato e domenica e facevo un livello dietro l'altro e dicevo ah no basta solo questo e poi vedevo come era quello dopo c'era un nome del cazzo tipo ah il saltarello pimparello e tu dici bel nome del merda vabbè proviamo a giocarlo perché di solito sono sempre carini e c'era un'idea nuova dallo specchio l'ombra l'oggetto che si muove la piattaforma che dopo un po' si muove e tanta roba l'abbiamo già vista però è ripeto è veramente una cazzo di caramella tante robe ho mai viste completamente pazze si ma c'erano anche cose tipo piattaforme appunto che stai su dopo un po' cadi e tu dici cazzo sarà dal 93 che c'è quella roba lì solo che è mescolata con 40.000 altre cose nuove e alcuni livelli invece sono completamente nuovi dove è fuori di testa la mappa del mondo è diciamo migliorabile i passaggi segreti nella mappa cioè capisco l'arricchimento ripeto è una roba barocca nel senso che dovunque ti giri c'è un'idea perché questi avevano messo uno che aveva le idee sotto metanfetamina gli hanno detto vai 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 esagera quindi c'è il passaggio segreto nelle mappe per passare da un mondo all'altro che non serve a un cazzo perché puoi usare la mappa normale per spostare esempio banale ci sono le uscite segrete dei livelli che se lo giochi come me dove cerchi di mantenere sanità mentale giocando visto che al lavoro la sanità mentale non c'è dici bello però devo stare lì a gestire tutte le seconde uscite di ogni livello no lo vivi già come un gioco veramente bello eppure c'è in ogni cazzo di livello nascosto di qua di là c'è sempre i blocchi segreti potevano non esserci sì te li hanno messi lo stesso la seconda stella la seconda fiore è esattamente la cosa aggiuntiva che si è sempre visto da altre parti esatto wonder come incredibile però puoi passare al livello lo stesso quindi anche lì un'esecuzione perfetta uno come me che lo gioca normale cerca di prendere il secondo fiore dappertutto l'altro no poteva essere non un fiore la stella di prima eccetera assolutamente sì però per lo schermo della Wii è veramente un'esperienza io penso al limite dell'hardware non c'è un minimo schermo della Switch schermo della Switch non c'è un cazzo di cedimento che sia uno probabilmente non sono le transizioni 3D più complicate del mondo però è inammovibile io dovrei ancora farmi le parti quelle di platform serie ma in realtà se adesso l'ho prestato a Simone Cognome di Freeplaying quando torna me lo rigioco da capo per rivedere le cazzate cioè per me quella è stata una roba che mi ha proprio sconvolto non mi aspettavo quella quantità di minchiate io penso averlo giocato sbagliato perché ho fatto un livello qui un livello lì poi pausa in mezzo poi ci giocavo con Valo ho rifatto 100 volte i primi due livelli non me lo sono goduto tanto e non l'ho finito quindi lo riprenderò quando devo giocarci con un po' più di cosa l'idea al momento è vedere tutti i livelli e poi rifarli cercando di trovare tutte le cose segrete mi è apparso un po' strano quella cosa di mettere livelli a difficoltà molto variabile all'interno dei primi mondi cioè tu ti trovi nel secondo mondo il livello con 4 stelle di difficoltà quella cosa lì l'ho trovata un po' strana di solito comincia già dal secondo usa vabbè forse è banale però lo ridico usa lo stratagemma che all'interno di un mondo devi raggiungere un certo numero di fiori per poter sbloccare o una cosa intermedia o il castello finale per farti accedere quindi non è strettamente necessario è chiaro che in alcuni momenti si innesca quel movimento quel diciamo concetto di eh no ho capito che ho 15 monete mi bastano già però voglio raccogliere le altre per un po' di sfida ti lascio la possibilità a un certo punto di dire vabbè basta ne ho raccolte 24 arrivare a le fantomatiche 30 che ci sono scritte sulle guide segrete è una roba veramente al limite del sovrumano e non lo faccio ogni tanto vado a vedere i video di gente che trova uscite segrete o altro e dico ma com'è cazzo gli è venuto in mente uno di averla trovata e prima ancora di disegnare un oggetto un livello una piattaforma del genere solita non particolare utilità di monete cose da raccogliere eccetera per cui probabilmente ci siamo abituati ma questa è una delle poche cose che magari Nintendo dovrebbe dire mo cerco di trovare qualcosa cosa succede quando finisci tutte le vite niente dovrebbe come gli altri ridarti 5 vite di bonus e che riparte che veramente te le tira dietro ogni momento quindi non è proprio poi mi sembra anche un Super Mario in cui ne perdi molte meno del solito beh mediamente manca spesso la parte proprio di flat cioè se la gioca molto sulla cazzadina non è fatto per impegnarti mediamente poco di abilità poi quando arrivi ai livelli quelli veri quelli tosti là invece è il livello che io non sono convintissimo di poter giocare se lì è il livello Super Meat Boy cioè nel senso proprio severo se puoi prendere tutte le monete non è mica banale alcune parti guarda no mediamente i fiori molto facile anche le monete molto più telefonate delle altre volte quei livelli invece che diciamo quelli con i veroncini che c'era a livello di difficoltà c'era una roba che sono segnati più complessi quelle sottoste cioè quelle platform super impegnative comunque insomma c'è un Mario Classico che però non delude visto che tante altre volte abbiamo avuto episodi della serie non particolarmente perfetti eccetera questo molto buono molto buono per essere un 2D non mi sento di dire è il più basso della serie o stiamo messi male è molto diverso secondo me non più basso ma è diverso secondo me se c'hai voglia di un platform la possibilità che ti rimanga un po' la voglia c'è perché guarda che lo schiva proprio il platform spesso e volentieri cioè è più platform all on night di questo nettamente cazzo senti invece voglio parlare un pochettino di Ultros sono a 6-7 ore e sono vagamente in amore a momenti a momenti vorrei impiccarlo per il semplice fatto che non capisci esattamente dove andare però a livello front software cioè non capisci sempre dove andare anche se in teoria sai come far sai il punto d'arrivo cioè c'è il segnalino però poi non sai arrivarci però mano a mano che vai avanti capisci cose incontri persone fai cose è un metroidvania molto sui generis che ti dirò alla fine probabilmente è un'esperienza quasi narrativa in cui perché qua invece i nemici che va in giro sono semi di passaggio cioè roba veramente che sciacqui via senza difficoltà e in cui la tua progressione è basata sul mangiare il cibo che rilasciano questi esseri tu fai progressione dell'albero puoi settare delle robe che rimarranno ogni ciclo ma ogni tot tu rinasci mediamente dopo che hai ucciso un boss e quando rinasci perdi tutto quindi c'è un po' di roguelite un po' di meotravania ma alla fine tutta questa roba serve a raccontarti la sua storia secondo me la parte proprio discriminante è se vi piace lo stile grafico a me fa impazzire se non vi piace e molti ho visto che in realtà lo soffrono perché è molto denso la cosa bellissima è che non si ripete mai cioè tu stai dentro questa nave ogni stanza è diversa una roba bellissima se non ti piace quello fai fatica perché si tratta di andare in giro a cercare di capire come arrivare acquisti dei poteri anche molto nuovi ce n'è uno che per esempio è un decispugliatore poi devi giocarti sul piantare dei semi in un ciclo che poi nel ciclo dopo ti ritrovi l'albero per esempio per fare una roba banale a livello di loro non ci ho capito un cazzo colpa più sua che mia evidentemente è colpa mia qua è più colpa sua però lo stile grafico non ti viene a vomito dopo un po' a me fa impazzire a me fa proprio impazzire mi piace un casino quindi no io lo adoro proprio come stile grafico e non lo sto patendo ho provato a giocarlo sul tari roulana e non funziona questo devo dirlo stai troppo continuamente a guardare la mappa si fa proprio fatica comunque a me sta piaciucchiando peccato che mi perdo e ci sono proprio le ore che le passo a non sapere cosa fare però piano piano la strada la trovicchi quindi dai l'ho amato molto più di Prince of Persia per mio gusto personale Massimiliano io ho giocato anche visto che era un'esperienza molto più breve appunto stavo giocando Prince of Persia avevo un fine settimana in cui non ce l'ho voglia ho giocato Venba che tanto era su Game Pass Venba sostanzialmente è un'esperienza che dura un'oretta e mezza forse anche qualcosa di meno sostanzialmente racconta la storia di immigrati indiani in Canada e quindi intreccia varie direzioni narrative il figlio per esempio che si sta avvicinando alla cultura locale abbandonandosi abbandonando un pochino quella del passato si intreccia il lavoro le difficoltà di un nuovo posto la famiglia e tutto il legame di tutti questi temi è la cucina cioè tu in persone soprattutto lei che è la madre che cucina le ricette di sugo a madre attraverso un diario che dove alcune parti sono cancellate quindi c'è anche un trial and error del tipo no aspetta forse mi sa che è quest'altra la cosa e funziona molto bene secondo me proprio il classico gioco di cui vorrei vederne di più che ti fai una serata dura un'oretta e mezza secondo me la storia è squisita ma il gioco in sé cos'è? il gioco sostanzialmente è quello di immagina le ricette come dei piccoli enigmi cioè tu non sai esattamente queste ricette come devono essere fatte e tutto c'è da dire che questa cosa la porta avanti all'inizio ma poi la molla completamente nella prima parte è videogioco ci gioca con questa roba delle ricette dopo diventa proprio solo una razione sì ma sarebbe anche se non è stato sbagliato se avesse fatto se ti avesse ostacolato troppo perché alla fine voleva raccontarti quella storia ripeto usare la cucina come amalgama io pianto una goccia l'ho tirata fuori ed è il primo videogioco della mia vita quando l'ho fatto il curry piccante troppo io per esempio essendo un bastardo nell'anima non ho provato niente di quello che ha provato Vito però effettivamente ci sono tanti temi secondo me ci si può ritrovare molto all'interno ma anche solo di uno che si è trasferito dal nord al sud dal sud al nord mille motivi questo è il primo videogioco che ti ha commosso primo ma è successo i video giochi sono tipo non ti sei commosso quando hai finito Like a Dragon Guy io pianto come un disperato no no però scena più bella di sempre sono d'accordo però non mi ha commosso da piangere c'era la mia compagna di fianco ma perché stai piangendo io oggi se guardo Instagram piango 20 volte cioè basta che mi metto una serie di reel mi arriva tutta roba che io finisco a piangere non è che voglio fare il super uomo arriva la tettona così come i videogiochi sono super ma arrivano i bambini che gli mettono l'occhialino che vedono i colori per la prima volta per la prima volta però i videogiochi sono freddissimi non so perché sono molto distaccato questo ma commosso ti consiglio Massimiliano se ti è piaciuto questo sempre sul Game Pass Thirsty Shooters non avevo dubbi che fosse quello visto che ho parlato di recente con Giulia Martina mi ha mai detto che ti ha colpito particolarmente quel gioco grande Giulia Martino sì perché c'ha delle robe in comune secondo me fa più il videogioco di questo ma neanche troppo e secondo me questo è più delicato più raffinato però quello funziona molto meno grezzo di quanto sembra ok dico una roba io allora vi ho detto prima che mi sono ho fatto l'upgrade al remake di The Last of Us 2 non ho ricominciato il gioco perché ho bisogno di una pausa anche da quello però ho fatto intanto mi sono fatto una run al al roguelite che c'è dentro a me è piaciuto poi effettivamente non so se farei 100 run ma a me come si chiama? il sistema di combattimento il roguelite all'interno come si chiama? non lo ricordi io si lo cerco no return forse non mi ricordo mi pare la nuova modalità non retarna grazie sì e allora ho fatto solo una run ci giocherò meglio più avanti quello solo provarla e a me comunque piace fare quella roba stealth dove devi strangolar la gente senza farti sentire sono un po' così io un po' simpatico ma la cosa interessante sono i lost levels cioè hanno una c'è una sezione negli extra dove tu puoi vedere tre livelli che avrebbero dovuto far parte del gioco completo e poi non hanno messo cosa hanno fatto? li hanno messi in una versione giocabile ma non completa perché si vede che gli mancano delle animazioni gli mancano delle texture gli manca della roba però in ogni punto tu puoi andare in giro con Ellie mi pare che sono tutti le tre con Ellie e ci sono dei punti dove tu puoi ascoltare il commentario degli sviluppatori perché hanno fatto determinate scelte perché l'han tolto anzi all'inizio di ogni stage c'è Dracman che fa una panoramica e poi all'interno dei livelli puoi sentire il commentario del commento il commento scusa ecco io capisco che sia molto difficile rendere giocabili dei livelli che hai scartato perché fondamentalmente gli manca un sacco di roba però quella là è la roba giusta da fare se ne metti 30 così perché quei tre lì che ci sono dentro li fai in 15 minuti 20 minuti sono interessantissimi da un punto di vista di studiare il videogioco però purtroppo finiscono troppo presto sono un po' buttati la questi tre livelli lì evidentemente l'altra roba che avevano non ci richiedeva troppo lavoro oppure c'è un'altra molto buona e te la tieni per il futuro cioè immagino che vero giusto potrebbero anche decidere che effettivamente alcune idee che non sono riusciti a mettere nel 2 le metteranno nella parte 3 che a questo punto pare abbastanza assodata che potrebbe esserci e niente cioè super interessante purtroppo poca roba ecco guardo con una speranza al futuro visto che quest'anno esce la versione anniversario di Braid dove dovrebbero fare proprio questa operazione con un mondo extra un sacco di commenti e nonostante Jonathan Blow sia un po' un coglione su Twitter è un po' spiacevole però intanto so che segue Ringcast quindi si sarà offesa io mi dissocio però Braid gioco della Madonna sicuramente ma ti pare che si siano un po' aprendo i videogioi anche a raccontarsi dall'interno cioè che ci sia un po' la voglia anche di far vedere pensiamo anche al documentario di Marco quel Karateka quella è una serie quella adesso non uscirà un altro e vorrebbero fare altri in futuro allora io non l'ho giocato ma mi interessa molto l'operazione cioè secondo me c'è gente interessata non so quanta però secondo me è un po' di gente interessata a scoprire le scena mi piacciono un sacco ecco quello sicuramente sì poi basta quanto tempo abbiamo Michele ce l'hai un altro gioco dai siamo 8 minuti allora ho cominciato a giocare Returnal anche se poi in realtà sono andato alla fiera qua a Bologna ho preso diverse cagate a cui Diablo 4 perché mi piace spendere e non prenderli sul Game Pass anche perché te lo regalano il giorno stesso che poi hanno fatto l'annuncio ma porca sì sì no no ma non avendo neanche l'Xbox non me ne frega proprio molto e sì fu però continuo a insistere con Returnal mi piace non riesco a capire se sto facendo le cose corrette o meno perché non riesco ad aprire alcuni portali alcune cose però l'attitudine è quella di gioco no no puoi fare cose sbagliate divertiti io mi consiglio che ti do esatto è goditolo con un arcade cioè non stare lì a vivere il finale perché io l'ho fatto e me lo so pensare no no io sto giocando proprio in modalità di quel tipo infatti la partita è come se hai messo un gettone se non è un gioco fuori di testa per quanto è bello esatto e non sono così boh forse sono io ma non sono così interessato alla storia forse perché la devo vivere veramente come dice Vito come arcade e basta semplicemente sei perso su un pianeta porta pazienza devi andare avanti e per qualche strano motivo muori e riparti nello stesso punto di prima lascia sta c'è xenoenergie cose varie eccetera vivila proprio così tipo buttarsi da da un aereo col paracaduto sai che non succede niente buttati ogni esperienza sarà così non mi sembra il gioco dove io mi posso intestardire dire no adesso andiamo a vedere ogni angolo a finire ogni cosa vado avanti procedo piano piano perché ambienti vuoti molta più atmosfera cioè probabilmente un gioco da appunto da lasciarsi andare perché sono piccole arene non è che c'è anche troppo io sì io volevo tutto era uno di quelli che prima che si andava avanti provava a fare il più upgrade possibile però io ho giocato così se non becco il fucile giusto per caso alla fine io ho giocato così dell'astovas ma dell'astovas dove mi giravo aveva qualcosa in ogni singolo dettaglio qua mi sembra molto più ambientale eh ma qua ce l'hai per upgrade non per gusto estetico cioè ogni angolino tu raccorgerai la statua gli puoi sparare escono dei cosi devi giocare sì sì oppure i cespugli ti danno energia ma non tutti devi giocare non puoi giocare in difesa quindi devi stare molto attento perché come te toccano te purgano e non vai più in barra quindi non puoi aumentare la barra ma devi andarteli a prendere i fregni a buffoli e quindi devi giocare molto da vicino cioè a livello mi piace il tuo linguaggio tecnico sei un coach di returnal beh cazzo l'ho adorato per me è fantastico però sulla lore non ci ho capito un cazzo quando l'ho finito quindi siccome ogni tanto nemmeno gli sviluppatori quindi mi sono guardato un video di un'ora e mezza che spiegava il finale ho letto una roba di 80.000 caratteri che spiegava il finale e non ci ho capito un cazzo uguale allora Vito forse potrei suggerire il fatto che o non volevano farsi capire o si sono spiegati in una maniera ma poi sono finlandesi ma te ti fidi di finlandesi in realtà il director il director è un greco sono greci ma ti fidi di greco senti posso dire due parole due su The Banisher ho fatto le prime due ore io sono giovane sul pezzo devo dire che l'ho preso perché ho letto come tutti voi delle super anteprime super recensioni dico beh proviamo le prime due ore mi hanno veramente sorpreso in positivo non tanto si vede che è un doppia alcune cose sono proprio bruttine qualche animazione non è eccezionale a livello tecnico ma non è neanche brutto però sui PG alcune animazioni facciali dei secondari così così meno o meglio sui principali però in due ore sono già successe un sacco di cose l'atmosfera della madonna io credo che sia un'esperienza quasi narrativa a cui si accompagnerà un combattimento molto all'acqua di rose che è come il gioco volentieri giochi io visto che non li approfondisco quindi vediamo da che parte vanno per il momento sono proprio sorpreso cioè le prime due ore succedono un po' di cose colpo di scenona titolo sto cazzo è scritto bene io sono uno come è che si chiama the banisher senza detto banisher ghosts of new eden ma questo questo è un gioco di don't nod di don't nod sì un po' chiacchierato ma questo secondo me è sorprendente ok quanto costa eh non mi ricordo anche perché io prendo le chiavi l'ho pagato un po' di meno ok ladro ladro maledetto va bene è ladro mercato termativo a me i giochi di don't nod piacciono anche quando non hanno il gameplay quindi questo c'è anche il gameplay è un grande bonus ma don't nod non sono quelli di remember me sono loro life is strange sono loro life is strange sì sì però è vero che avevano fatto anche remember me non me lo ricordavo sì perché tu dicevi non hanno videogioco non hanno gioco cioè hanno fatto anche vampire sì perché remember me ce l'aveva il gioco mentre quello che hai detto dopo che è più storia più narrativa come si chiama life is strange life is strange non ha il gioco non pervenuto no il gioco è di scegliere dialoghi no all'inizio ci provava life is strange però il primo vi ricordate che all'inizio c'era la meccanica del tempo che nei primi episodi un pochettino poi la canna sì poi basta va bene avrai anche altri giochi ma direi che abbiamo finito il tempo a disposizione quindi me li tengo per la prossima volta va bene quindi puoi passare i saluti io preparo il ride al nostro amico Marco che ci ha dato buga ancora in line si sta giocando a kingdom death monster ah io pensavo che stesse leggendo la rivista di Massimiliano Di Marco da tre ore peraltro tipo una lettura pubblica in una libreria va bene grazie a tutti quelli che ci hanno seguito noi ci risentiamo il prossimo mese direi grazie a Massimiliano Michele e Vito ciao amici ciao a tutti voglio aspettare qualche secondo che adesso parte il ride quindi puoi fare le faccine oppure metto la schermata in silenzio la copertina o vado a scrivere la pagina Wikipedia di Massimiliano Di Marco grande imprenditore e da oggi anche editore ciao a tutti ciao 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 come sempre i contatti in fondo abbiamo allora se volete comprare i miei giochi di ruolo li trovate su theworldanvil.com potete supportare Ringcast all'indirizzo patron.podbean.com slash ringcast ricordatevi che sempre meno di voi ci supportano quindi prima o poi qualcosa succederà se non cacciate il denaro cari amici io ve lo dico poi vedete voi se volete parlare con noi potete farlo tutti i giorni su telegram a telegram.me slash ringcast se volete mandarci un'email lo potete fare a ringcast at gmail punto com anche questo episodio è stato montato con producer il software del nostro ascoltatore Alex raccoglia trovate più informazioni all'indirizzo ulti punto media ciao ringcast ringcast all'indirizzo all'indirizzo all'indirizzo